Buongiorno, buon inizio di settimana, ben trovati a mattino 6 la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani della nostra regione e poi faremo anche un'incursione in quelli nazionali. Ma allora partiamo dal centro, edizione di Pescara che apre con la cronaca, rapina e spari nella sede delle slot. Ride nella notte, tre banditi minacciano la dipendente e fuggono con 3.000 euro. Andiamo a vedere poi lo spazio nelle cronache Pescara sulla circonvallazione scontro tra auto. Tre persone finiscono in ospedale rimaste ferite, fortunatamente aggiungiamo noi in modo non grave, in un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla circonvallazione all'uscita della Galleria San Silvestro. Un'auto proveniente da Francavilla, condotta da una donna di 61 anni, è finita sulla corsia opposta e si è schiantata contro un'altra macchina guidata da una 67enne che viaggiava in compagnia del marito proveniente dalla direzione opposta. Lo scontro ha provocato disagio alla circolazione perché il traffico è rimasto bloccato in direzione sud per un'ora e venti minuti con uscite obbligatorie a San Silvestro, mentre in direzione nord i mezzi hanno continuato a transitare. Andiamo avanti, a Pescara, a Movida, Sicura, scattano i controlli nei locali del centro. Sono cominciati nella notte tra sabato e domenica i controlli annunciati venerdì dal questore Francesco Misiti nel corso di un incontro con i gestori delle attività disseminate in tutta la provincia e frequentate dai giovani. Le forze dell'ordine si sono concentrate a Pescara Vecchia e nella zona di Piazza Muzzi, in regolarità solo sui misuratori fiscali per gli scontrini. Andiamo a vedere poi ieri la bella manifestazione all'aeroporto di Pescara. Al reparto volo, Lorella Cuccarini fa festa con i bambini. Testimonial dell'Agbe, Lorella Cuccarini ha partecipato ieri mattina alla festa organizzata dal reparto volo della Polizia per centinaia di bambini provenienti dalle case famiglie ai quali Babbo Natale, arrivato in elicottero, ha donato i regali. Dunque questa è la bella iniziativa di solidarietà. Nel taglio basso andiamo a vedere per quanto riguarda la politica le regionali. Ancora Maretta nel centrodestra, Marsilio sfida il centrodestra, è il titolo del centro. Il senatore romano mi dimetto per candidarmi in Abruzzo, così Marco Marsilio mette in scena, scrive il centro, un vero e proprio colpo di teatro all'Assemblea di Fratelli d'Italia che si è svolta ieri. Si autocandida per l'intero centrodestra annunciando per oggi le sue dimissioni immediate dal Senato. Ma la fuga in avanti di Marsilio, spalleggiato dal sindaco dell'Aquila Biondi, scatena le reazioni di Forza Italia e Lega. Per il centrosinistra e più Europa scende in campo per Legnini. Invece nel campo opposto sembra abbastanza tutto chiaro. Andiamo sullo sport per andare a vedere la pagina che riguarda il Pescara soprattutto. il Pescara Verona stasera Pilon, sfida Grosso con la foto dei due allenatori a confronto. Il tecnico dell'Ellas Verona, Fabio Grosso, chiaramente è un pescarese doc e dunque ci sarà questo piccolo derby nella partita molto sentita fra le due tifoserie. Poi andiamo a vedere ancora per quanto riguarda il calcio. La Serie A, la Roma risorge con il Genoa, il Napoli vince e rimane a meno otto. Addio a Pulici, il portiere che parava tutto. A 73 anni Felice Pulici, ex Gloria della Lazio, ha lasciato la nostra terra per altri lidi, forse speriamo più felici. e poi l'Unibasket Amatori centra la settima vittoria consecutiva. Così vedete anche la foto del coach Stefano Raiola. L'Amatori cala il sette bello superando anche il Senigallia 82 a 67 e consolida la seconda posizione solitaria in classifica. Dunque questa è l'edizione di Pescara del centro. Andiamo a vedere le altre edizioni provinciali del quotidiano d'Abruzzo. partendo da quella teatina, il titolo di apertura coltellate a cena. Quattro indagati, la lite finita nel sangue a Chieti, una donna accusata di tentato a omicidio, nei guai gli amici. Nello spazio delle cronache, rapina al sushi ciao, terrore tra i clienti a Vasto Marina, terrore a cena. Sabato per una decina di clienti del ristorante giapponese sulla Statale 16 poco dopo le 22.30. Una coppia con il volto coperto e armata di pistole è entrata nel locale. Ha ordinato una dipendente dello stesso di consegnare il denaro nel registratore di cassa. I due sono fuggiti con 1.200 euro. Sull'accaduto indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia. I militari non potranno contare sulle immagini di videosorveglianza. Il locale infatti non ha telecamere e gli altri impianti di videosorveglianza non hanno ripreso la scena. Il quinto colpo nel comprensorio negli ultimi tre mesi. A Chieti poi, maxifrode fiscale, socio ASL sotto accusa. È nata da una ditta sociale in affari con l'ASL e l'inchiesta sulla maxifrode fiscale da 63 milioni di euro che giovedì scorso ha portato a 12 arresti. Le prime compensazioni in debite erano state scoperte già due anni fa. a carico dello studio TSSRL. Si tratta di una ditta di Chieti che è partner privato di una partecipata dell'ASL. Da sei anni l'ASL vuole chiudere la partecipata ma ogni tentativo è risultato vano. Il ministro Avvasto, lezzi del Movimento 5 Stelle, sulla ZES più servizi alle ditte. Avvasto è il sud di una regione che deve tornare ad essere locomotiva del sud dell'Italia. La ZES è un'opportunità. Queste le parole del ministro per il sud, Barbara Lezzi. La ZES ha continuato. Aiuterà il vastese Labruzza a ridurre il divario che si è creato negli ultimi anni con le altre zone più servite. Andiamo a vedere poi la finestra dello sport. Chieti e Lanciano vincono e prendono il volo tra i dilettanti. E poi il basket derby all'Europo Vini. Volley, Sieco, fa la gara più bella nel basket. Vittoria al Palatricale per quanto riguarda la Serie B per l'Europo Vini-Chieti che fa suo 75-50. Il derby con Giulianova e si rilancia verso le zone alte della classifica. Per quanto riguarda la 2, la Sicortona promossa. L'esame di maturità batte la quarta forza del campionato. La Castellana Grotte per 3-1. Un successo fondamentale per il quarto posto. Ora lontano solo due punti. Andiamo a vedere anche l'edizione terramana del centro. In apertura acqua torbida, indagato Forlini, l'ex presidente del Ruzzo e il direttore tecnico Giambuzzi, accusati di adulterazione. Andiamo a vedere nelle cronache. Teramo, la madre denuncia fisioterapia negata. Un ragazzo disabile, il figlio ventenne, affetto da una tetra paresi spastica, ha bisogno di tre sedute settimanali di fisioterapia nei centri convenzionati con la ASL. Ci sono lunghe file di attese, in alcuni casi anche di un anno. La denuncia di una mamma terramana, la donna dopo aver avuto dall'apposita commissione dell'ASL l'autorizzazione, scusate, le sedute di fisioterapia, si è rivolta ai quattro centri convenzionati, ma fino a questo momento non è ancora riuscita a far inserire il figlio. Fino ad oggi abbiamo fatto privatamente, racconta, ma ora non è più possibile. Mi chiedo però perché mio figlio malato debba aspettare così tanto. Andiamo a Giulianova. La scuola di Amicis con i ponteggi rimossi senza lavori. Lavori di restauro che dovevano interessare la lunga facciata della scuola di Amicis non sono mai partiti, ma venerdì prossimo l'ingombrante impalcatura che si affaccia sulla piazza della Libertà dovrebbe essere rimossa. Il comune per il suo noleggio ha speso finora 58 mila euro, una somma superiore all'importo 41 mila dell'intervento mai effettuato. A Teramo evade dai domiciliari per le liti in famiglia. Litica con i familiari e per la terza volta in una settimana evade dagli arresti domiciliari. Lui è un tunisino di 30 anni, residente a Teramo, è finito agli arresti domiciliari per reati legati alla droga. L'uomo non è stato trovato in casa dai carabinieri durante il quotidiano controllo ed è stato rintracciato nei pressi dell'abitazione. Andiamo a vedere la finestra di sport. Roseto combatte, ma Treviso è più forte per quanto riguarda il basket. E poi la Serie D pari il derby al Fadine. Il Pineto continua a volare nel girone F della Serie D. Il derby Teramano di giornata tra Giulianova e San Nicolo Notaresco finisce 1-1. Gli ospiti rimontano nella ripresa con Moretti il gol iniziale del giallorosso Tossi-Borsoie e nel finale sfiorano il colpaccio. Il Pineto continua a vincere con il 2-0 ottenuto sul campo della San Maurese. I biancazzurri consolidano il quarto posto e avvicinano la San Giustese terza che ora è a soli due punti. E poi nella seconda parte andremo a vedere anche i servizi di Serie D. Passiamo all'ultima delle quattro edizioni provinciali del centro, quella aquilana. Il titolo di apertura, eccolo qui, piscina chiusa, 32 posti a rischio. Sit-in oggi della CGL con le associazioni dell'impianto sportivo di Santa Barbara. Nelle cronache ad Avezzano, anziana scippata dal bandito ciclista, è stata raggiunta alle spalle da uno scippatore in sella alla sua bicicletta ed è stata strattonata e derubata dalla borsetta. Essere presa di mira una pensionata di Avezzano che è riuscita a mantenere l'equilibrio per un pelo, rischiando di cadere a terra rovinosamente. Le conseguenze in quel caso sarebbero state peggiori. L'episodio è avvenuto sabato in via di Lorenzo, nel quartiere San Rocco, non distante dal centro. In particolare è stata aggredita a poche centinaia di metri da un supermercato. Forse lo scippatore stava aspettando qualcuno che uscisse dal negozio dopo aver fatto la spesa, approfittando di una zona poco trafficata in quell'orario. A Sulmona lite per un petardo. Rimprova era ragazzino ma il padre lo pesta. esplode un petardo davanti a un esercizio commerciale del centro e viene rimproverato dal proprietario. Il padre del ragazzo, un trentenne, invece di redarguire il figlio, un dicenne che con il botta aveva creato panico tra i clienti del negozio, se la prende con il proprietario colpendolo con calcio e pugno e facendolo finire in ospedale con 40 giorni di prognosi. Adesso ci spostiamo all'Aquila. In cassa 90 mila euro con un terno all'otto. 10 giocate da 2 euro l'una su tre numeri. 1, 69 e 71. Terno secco sulla ruota di Napoli. 10 vincite da quasi 9 mila euro l'una che messe insieme fanno 90 mila euro. Dunque, complimenti al fortunato vincitore. Andiamo nella finestra dello sport. Avezzano vittoria di cuore sulla Vastese. L'altro derby di giornata. E poi andiamo a vedere le altre notizie. L'Aquila cinquina natalizia, primato solitario per il rosso-blu di Roberto Cappellacci che vedete nella fotografia. Non segna ma la sua presenza in campo si fa sentire. La cinquina che l'Aquila cala contro la Valle Aterno Fossa di Angelo Prospero. Si può dire che esca proprio sulla ruota dell'ex difensore del Pescara, Frosinone, Ternara e Perugia, Damiano Zanon. Tre punti. L'immancabile goleada con tanto di pali e traverse che vedono la squadra di Cappellacci sarsi di nuovo in solitaria alla guida del girone A del campionato di prima categoria. Andiamo a vedere anche il messaggero. Dunque cambiamo testata. Andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo. Il titolo di apertura discoteche, prime multe sui controlli dopo la strage di Corinaldo e la stretta annunciata dal questore di Pescara Misiti. Al codice orari di chiusura tutto ok, rilevate invece delle irregolarità fiscali come abbiamo visto anche in precedenza. Per la politica di spalla, Marsiglio si autocandida, non sarò più senatore. La convention di Fratelli d'Italia a Francavilla si chiude con questo annuncio. Sono pronte le mie dimissioni. Andiamo a vedere poi a centropagina la ricostruzione. Pubblicati nuovi bandi per l'edilizia pubblicato il 14 dicembre scorso. Il nuovo elenco per le pratiche della ricostruzione per un totale di 12 milioni e 300 mila euro circa. La pubblicazione è composta da due liste. E poi a centropagina lo sport con la Serie B. Questa sera il posticipo di lusso al Bente Godi. Il Pescara Verona per vincere contro gli scaligeri guidati dal pescarese grosso. Out Melegoni non potrà essere della partita. A questo proposito vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Diretta Stadio, con Andrea Costantini e i suoi ospiti in studio e Paolo Renzetti da Verona per commentare la partita e poi per le interviste nel dopogara. Ma torniamo sui nostri giornali. Proseguiamo la lettura della prima pagina del Messaggero. La fusione Tortoreto e Alba prove di nozze. È un proposito che balena nella mente e nel cuore di tanti vibratiani della costa, degli albensi e dei tortoretani che mai si sono rassegnati alla divisione dei due comuni confinanti, Alba e Tortoreto, dalla separazione del 1956, dettata più da ragioni di campanile che di interessi sul piano dello sviluppo. L'idea della possibile riunificazione in un unico comune campeggia su dazibao.it che si occupa sul web di grandi temi della Val Vibrata con una motivazione sulla quale i territori sono chiamati ad esprimersi. Diamo invece nel taglio alto i richiami dalle altre notizie sul Monari. Proveri per un petardo, poliziotto preso a botte. Serie C, Teramo ora salvare il soldato Piccioni. E poi per la Serie D, Avezzano batte la Vastese, bene Francavilla e Pineto finisce in parità il derby. Real Giuliano Vannotaresco, Dos Santos subito protagonista con la nuova maglia del Villa, doppietta decisiva. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso, come di consueto, andiamo ad aprire lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. In apertura il piano per convincere l'Unione Europea. Dunque continua la tenelovera manovra che dovrebbe chiudersi questa settimana con il passaggio in Senato. Salvini dice altre riduzioni fiscali, ecotassa solo per le auto di grossa cilindrata. Questa è la novità, vertice di quattro ore. Il governo a voce unanime dice di essere unito. Coperture per il deficit al 2,04%. Vedremo se a Bruxelles basterà per sventare le sanzioni. Poi l'editoriale di prima pagina è firmato da Angelo Panebianco. Sviluppo e diritti, l'Africa ci riguarda da vicino. E questo è il tema di approfondimento di questa mattina. Scendiamo invece a centropagina. Neve sulla strada, morte sul bus a basso costo. La tragedia a Zurich, un'italiana, la vittima. E 43 i feriti nell'incidente in cui è stato coinvolto un mezzo della Flixbus diretto a Düsseldorf in Germania. A centropagina il racconto della speleologa in trappola a 100 metri sotto terra bloccata al gelo e al buio la mia notte nella grotta. Questo è il racconto di Giusy Campo che vedete nella fotografia. 42 anni, speleologa rimasta bloccata per 12 ore in una grotta in Sicilia con una gamba fratturata. Lasciamo il Corriere della Sera. Repubblica, l'unico giornale che si occupa di questo tema cioè dell'ambiente e del COP24 di Katowice in Polonia. Clima, grande blef in Polonia. L'Europa assente, senza rotta. A Katowice impegni generici sul riscaldamento globale nonostante previsioni allarmanti. Poi c'è il box con la manovra. Eccolo qui dal governo Isia a Bruxelles per il reddito e le pensioni. il sacrificio sale a 5 miliardi. Nella fotonotizia, l'inarrestabile corsa cinese a 40 anni dalle riforme di Deng. E qui vedete, eccole qui, migliaia di biciclette di diverse agenzie di bike sharing accatastate in un'area all'aperto ad Efei nella provincia cinese di Anui. Andiamo avanti con la stampa. Anche qui l'apertura è dedicata alla manovra taglio da 4 miliardi per pensioni e reddito e l'intesa Salvini di Maio. Dunque anche vari giornali diciamo non si trovano sulle cifre di questo taglio sulla manovra per accontentare l'Europa. l'ecotasse è stata accantonata via libera alla riduzione dei vitalizi d'oro. Il vertice notturno di Palazzo Chigi apre l'accordo con l'Unione Europea. E poi ancora andiamo a vedere l'articolo di Mario Platero. Mercati in tensione, il dragone rallenta la crescita e dunque anche a causa della guerra sui dazzi c'è una flessione del PIL cinese che preoccupa e crea tensioni sui mercati. Andiamo a vedere una notizia invece che ci riguarda più da vicino. Polizia brasiliana a caccia di Battisti il latitante potrebbe camuffarsi così e qui vedete alcune delle ipotesi di camuffamento di Cesare Battisti dopo il sì brasiliano all'estradizione le autorità italiane attendono che venga consegnato loro il latitante ex terrorista rosso. E poi ancora le regioni nel mirino sottostimata la domanda allarme per l'influenza i vaccini stanno finendo. Ritroviamo anche lo schianto a Zurigo mamma Nicoletta morta nel Flixbus verso Düsseldorf stava andando a trovare il fatrello e il padre impiegati in un ristorante in Germania. Il sole 24 ore andiamo a vedere l'apertura che è dedicata alla qualità della vita diciamo l'annuale report del sole 24 ore qualità della vita Milano al vertice in testa Bolzano, Aosta, Belluno e Trento dunque tutto l'arco del nord seguono la provincia Lombarda in coda il sud Vibo Valencia Foggia, Taranto e Reggio Calabria chiudono come vi ho detto la classifica 2018. Andiamo a vedere poi le altre notizie corsa delle partite IVA alla flat tax la manovra in Parlamento nei primi nove mesi del 2018 il 40% delle nuove aperture ha scelto il forfettario ma il nuovo regime impone la cessione delle quote societarie. Lasciamo il sole 24 ore andiamo sul messaggero quotidiano romano che apre con la manovra tagli divisi a metà Movimento 5 Stelle deluso Tregua Salvini Di Maio con Giorgetti assente pensioni ridotte le pensioni il reddito perde un'altra quota vertice nella notte sulla manovra trovate coperture per 3 miliardi come vi ho detto i giornali non si sono messi d'accordo sulle cifre Conte intesa oppure lascio anche questi rumors poi smentiti di un possibile di una possibile dimissione da parte del premier di spalla l'autonomia del nord una riforma spacca Italia che spropia i diritti del sud scrive Gianfranco Viesti e poi ancora pensioni reteizzazioni lunghe con l'Inps pace contributiva con sconto fiscale il riscatto della laurea è più facile andiamo a centro pagina Roma pesa un sì sull'emergenza rifiuti e spunta il Piemonte il governo oggi serve l'ok all'impianto di Aprilia chiesto l'aiuto del Piemonte di Chiampiarino la Raggi è preoccupata anche l'Abruzzo sta dando una mano a Lazio e a Roma accogliendo una percentuale di rifiuti nei propri impianti e poi a centro pagina lo sport Striscioni contro Pallotta poi Corio Rocabolesco 3 a 2 contro il Genova Roma contestazione vittoria di Francesco e Salvo andiamo sul tempo ancora quotidiani romani il titolo di apertura ristretto il reddito di cittadinanza questa la lettura del tempo sulla manovra lo stanziamento bandiera dei 5 stelle perde 2 miliardi su 9 dimagrite pure le nuove pensioni all'Europa ancora non basta e poi a centro pagina di Francesco Salvo ma non troppo per quanto riguarda il calcio e la Roma andiamo avanti sul fatto quotidiano apertura differente rispetto agli altri quotidiani legge col buco Renzi Boschi Fico e compagni politici che non dicono i loro guadagni è scaduto il termine per la dichiarazione sulla trasparenza e poi ancora per la stessa saga in un certo senso vigilanza distratta il PD si è scordato 2 miliardi e le BCC rischiano di fallire andiamo avanti sul libero non ci sono soldi per tutto la legge del taglione pende sul governo Movimento 5 Stelle e Lega dovranno mollare sul reddito di cittadinanza e pensioni ma nessuno vuole cedere e questo crea una situazione di precrisi Conte alla canna del gas va a farsi benedire dal Papa Lasciamo libero andiamo sulla verità che apre con un'intervista al ministro Fontana il piano del governo per fare più figli il ministro della famiglia in 8 anni l'Italia ha perso 100.000 nuove nascite o si cambia o il paese sparisce in manovra un miliardo per asili nido e incentivi alla natalità e più risorse per i disabili e poi Renzi flop sul 9 il suo documentario a meno ascolti della fabbrica dei biscotti Renzi che diciamo ha condotto possiamo dire un documentario su Firenze povero bullo non funziona nemmeno da showman scrive Maurizio Belpietro e poi a centropagina l'Europa da un miliardo e mezzo ai Rom viaggio nei fondi dell'Unione che dovrebbero integrare i popoli nomadi l'esperta dice sono soldi buttati il mattino di Napoli in apertura manovra tagli divisi a metà e 5 stelle cedono sul reddito abbiamo visto già il vertice di Palazzo Chigi poi le altre notizie le interviste Bassolino il sud polveriera sociale rischio gile gialli l'ex governatore della campagna a sinistra non si riflette più la questione meridionale si è aggravata ancora e poi a centropagina colpo a Cagliari la pennellata che tiene aperta il campionato con una magic milic una magia di milic il bomber polacco re dei gol pesanti una pulizione che qualcuno ha costato a Diego Armando Maradona andiamo sullo sport visto che abbiamo introdotto il tema e allora la gazzetta dello sport in apertura accordo con l'anno nuovo l'Inter si regala i cardi durante la sosta incontro per il rinnovo ma il club è infastidito dalle uscite di Vandanara poi colpo alla Sardegna Arena 1-0 in Napoli non molla Milic sul traguardo beffa il Cagliari lottiamo su tutto e poi ancora col derby un traguardo simbolico Juve 5.000 firma CR7 gol magie record e occhio Champions che c'è il sorteggio Allegri ostacoli Liverpool e Atletico per la Roma gli Iceberg City Barca PSG sedicesimi di Europa League con tre italiane andiamo a vedere poi le altre notizie Papere Fischi e Var sollievo Roma 3-2 ma è rabbia Genova Olsen che errori Fazio Clivert e Cristante salvano di Francesco preziosi e furioso e dice vergogna il Milan Higuain carissimo Pipita 2 milioni e mezzo a gol vale il riscatto e spunta l'ombra di Pato poi a centropagina troviamo la Ferrari ecco la Ferrari per vincere tutti i disegni in anteprima è presentato un film sui Gregari il giro che insegue l'Oscar e Domoulin annuncia e dice torno sul Corriere dello Sport l'apertura è dedicata a Milik Mara Milik il titolo che viene scelto dal Corriere punizione magia la Diego e il Napoli resta a meno 8 Ancelotti regala un tempo al Cagliari che finisce estremato decisivi gli ingressi di Mertens e insigne nel finale per Arec anche una traversa Scudetto restiamo in scia nel taglio alto Juve No Klopp oggi il sorteggio della Champions alle 12 su Sky andiamo su Tutto Sport e qui diciamo troviamo Mourinho Pogba subito addio il francese escluso anche nel match perso tra 1 dallo United all'Iverpool verso la cessione immediata la Juve è in agguato e poi Golden Boy scusate Mattias De Ligt il difensore capitano dell'Aix è stato eletto miglior giocatore europeo Under 21 e così abbiamo concluso anche questa prima parte di rassegna adesso ci fermiamo per il break pubblicitario prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo e poi torniamo con la seconda parte della lettura dei giornali in cui andremo ad aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di mattino 6 ma allora andiamo nelle pagine interne dei quotidiani abruzzesi andiamo a vedere le notizie principali di giornata partiamo dal primo piano del centro verso le regionali da Marsilio l'ultima sfida al centrodestra il titolo che ci propone il quotidiano il centro e questo per quanto riguarda il senatore romano che annuncia mi dimetto per candidarmi in Abruzzo nel taglio basso ma forse Italia e Lega lo frenano Pagano dice solo una sua iniziativa Bella Chioma ribatte aspettiamo la decisione da Roma poi verso le regionali ancora scende in campo più Europa Legnini il sogno europeo non può camminare senza le gambe dei giovani così il candidato in pectore del centro-sinistra restiamo sul quotidiano il centro andiamo avanti con le pagine di Pescara assalto alla sala slot è il titolo che apre le pagine di Pescara è il raid sulla Tiburtina i banditi sparano la dipendente si oppone i tre esplodono due colpi di pistola e fuggono con 3.000 euro bruciati poco dopo due ciclomotori e qui vedete alcune fotografie della sala slot proseguiamo Movida controlli a raffica blitz nei locali del centro dopo il giro di vite annunciato dal questore Misiti sono scattate le ispezioni in regolarità su scontrini in Piazza Muzzi e a Pescara vecchia rispettati gli orari andiamo ad aprire le pagine di Pescara andiamo a vedere come apre il messaggero alcol e alcol facile e orari prima ondata di controlli nei locali dopo l'ultimatum del questore e gestori la polizia in azione nel weekend prenatalizio nel bilancio soltanto violazioni lievi stop le bevute alle 3 e tutti andanno alle 4 per prevenire disordini e incidenti durante le feste nessuno sgarro sarà tollerato come annunciato appunto da Misiti l'arrivo dal cielo di Babbo Natale in elicottero i regali di Lorella Cuccarini e il reparto volo e poi cattolici liberali sinistre sindaci e di Matteo 5 civiche per Lenini per quanto riguarda il diciamo il centro-sinistra alle prossime regionali nel taglio basso San Silvestro la galleria maledetta tre feriti in uno scontro frontale sulla tangenziale questo per quanto riguarda la cronaca ma torniamo sul quotidiano il centro e andiamo a vedere proprio questa notizia schianto sulla circonvallazione tre i feriti frontale all'uscita della galleria San Silvestro una chia finisce sulla corsia di marcia opposta e si scontra con una punto all'aeroporto il Babbo Natale che viene dal cielo Lorella Cuccarini e Babbo Natale che festa con i bimbi la madrina dell'Agbe ospite del reparto volo della polizia centinaia di famiglie hanno atteso l'elicottero con i regali e qui vedete proprio gli scatti della mattinata andiamo avanti a Montesilvano ultimo giorno per pagare il comune ricorda i cittadini che la scadenza di oggi i numeri utili ai quali rivolgersi chiamati al saldo 17 mila contribuenti atteso un incasso di 6 milioni di euro nel taglio alto avvia i lavori nella scuola Rodari di via Salaravecchia a Bussi la gatta Filippi niente bocciature il sindaco replica l'opposizione in Vitaglia ha chiesto solo altri atti poi ancora andiamo avanti nelle pagine di Chieti serata finita nel sangue verso il processo coltellate alla cena tra amici quattro gli indagati la lite in una casa di Sant'Anna 54enne teatina accusata di tentato omicidio gli altri partecipanti nei guai per favoreggiamento e poi di spalla truffe e conti correnti ripuriti arrivano i consigli delle poste la guida si trova gratis negli uffici nel taglio basso il ministro Lezzi con la ZES più servizi e competitività il ministro per il sud dall'incontro sulla zona economica speciale opportunità per il rilancio incontro che si è tenuto a vasto nella pagina successiva maxifrode fiscale retroscena inchiesta nata da una ditta sociale in affari con la ASL Chieti le prime compensazioni in debite scoperte già due anni fa con lo studio TS sotto accusa il privato di una partecipata che resiste ai tentativi di chiusura da parte del manager dell'ASL Flacco oggi gli interrogatori davanti al GIP in programma interrogatori per i 12 arrestati nella maxinchiesta condotta da guardie di finanza e polizia e poi ancora nella banda spunta la faida per i soldi due procacciatori intascano le somme pagate dai clienti imprenditori e la rabbia dei consulenti napoletani nel taglio basso rapina al ristorante terrore tra i clienti coppie e rompe con le pistole alle 22.30 in un locale giapponese di vasto bottino 1200 euro andiamo a vedere le pagine di Chieti sul messaggero ecco qui ascensore tunnel lavoro in ritardo Argenio chiede le carte per il consigliere dei 5 stelle si rischia di perdere il collegamento tra il terminal di via Gran Sasso e largo Cavallerizza nel 2019 scade infatti la licenza per la scala mobile avvieremo la procedura di accesso agli atti per capire le ragioni dello stop al cantiere dice il consigliere comunale Griglino e poi ancora rapinatori in azione all'ora di cena al sushi ciao di vasto in fuga con 1200 euro e l'incontro sempre a vasto per quanto riguarda le ZES con il ministro per il sud Lezzi torniamo sul quotidiano il centro andiamo ad aprire le pagine di Teramo l'inchiesta bis sul ruzzo acqua torbida intorbidita dai lavori indagati Forlini e Giambuzzi l'ex presidente delle CDA che chiede di essere interrogato e lo storico direttore tecnico della società sono accusati di adulterazione una donna di Casemolino è finita in ospedale dopo aver bevuto l'acqua ancora la cronaca evade perché litiga con i familiari tunisino viola i domiciliari denunciato per la terza volta in una settimana e nel taglio basso niente fisioterapia per mio figlio la denuncia della mamma di un ventenne con una tetraparesi spastica nella pagina successiva Giulianova scuola di amici si lavori mai fatti ma il ponteggio viene rimosso Giulianova la struttura la vedete noleggiata dal comune per 58 mila euro sarà smontata entro fine anno senza che la facciata sia stata restaurata forse saranno solo eliminate le parti pericolanti nel taglio alto il progetto presentato a Giulianova pesca sostenibile campagna educativa in sette scuole e nel taglio basso lungomare sud rifiuti e degrado a Roseto proteste per lo stato della zona vicino all'area di stoccaggio sequestrata andiamo avanti e andiamo a vedere insieme le pagine la pagina di Teramo sul messaggero mancano i mezzi poco sale il piano neve già in crisi il comune ha appena pagato la fattura del materiale antigelo dello scorso anno in caso di necessità verrà chiesta la collaborazione della provincia l'assessore di Bonaventura spiega le difficoltà economiche per far fronte alle emergenze di spalle a Giulianova le gang svaliggiano due case fuga con le cassette blindate e poi nel taglio basso lo sviluppo grazie alla Zess incontro con Cianciotta a Giulianova e in Val Vibrata Tortoreto e Alba prove di nozze per una maxi città per riunificare le due città andiamo nelle pagine dell'Aquila sul messaggero l'apertura a San Silvestro la conclusione dei lavori slitta a marzo per il restyling della chiesa bisogna completare i collaudi che sono complessi viste le competenze differenti poi ancora ricostruzione pubblicati i privi bandi resta il nodo delle frazioni isolate nel taglio basso rapina scomparse prostitute la sua amica testimone poi sul centro sempre dall'Aquila colpo ad Avezzano nessun testimone anziana scippata da un bandito in bici la donna è stata strappata la borsetta con pochi euro e documenti il colpo commesso vicino a un supermercato e poi ancora andiamo nel taglio basso Pestigli candidata alle regionali intesa tra la rappresentante marsicana di sud protagonista e Giorgia Meloni a San Benedetto dei Marsi il sindaco Dorazio annuncia aderisco a Forza Italia questo per quanto riguarda la politica nella pagina successiva a Sulmona la cronaca rimproverà ragazzino il padre Lopeste in ospedale il titolare di un negozio nel quale l'undicennio aveva esploso un petardo il commerciante preso a calci e pugni e poi la BCC aprirà una filiale a Francavilla Prato La Pelini all'annuncio nell'assemblea che ha dato l'ok all'ingresso nel gruppo Icrea e poi il taglio basso protesta oggi davanti alla piscina chiusa la CGL e le chiama all'Aquila le associazioni per chiedere la riapertura dell'impianto di Santa Barbara Adesso andiamo a vedere le pagine di sport partiamo dalla copertina del quotidiano il centro Pescara vuole una notte magica stasera il posticipo a Verona per avvicinare la vetta Ragusa Balzano la sfida tra amici di spalla la Serie C sabato arriverà la Triestina il Teramo non va otto gare senza una gioia per i tifosi e poi le altre notizie Avezzano e Pineto alla riscossa Franca Villavanza per la Serie D per l'eccellenza San Buceto e Spoltore segnano il passo il Chieti allunga la vetta e poi in promozione il Lanciano vince la prova di forza con la Bagica Lupo e torna solo in testa andiamo a vedere adesso all'interno sul quotidiano il centro andiamo a vedere la doppia pagina dedicata al Pescara eccola qui stasera a Verona Pescara a caccia del Blitz Pilon punta su Monachello contro il giallo blu di Grosso tridente completato da Mancuso e Marras allo stadio Bentegodi alle 21 i Biancazzurri vogliono tornare al successo in trasferta che manca dallo scorso 19 di ottobre poi andiamo a vedere le possibili formazioni per quanto riguarda questa partita moduli almeno negli annunci speculari per le due squadre partiamo dal Pescara Castrati in porta del grosso Scogna Emilio Graviglione Balsano la linea 4 di difesa Macin Brugman e Memushai i tre di centrocampo con Monachello punta centrale sugli esterni Mancuso e Marras per il Verona Silvestri in porta al mici marrone Davidovcik Emperor in difesa Gustafsson Danzi e Zaccagni e centrocampo Matos di Carmine e Ragusa in avanti andiamo a approfondire poi qualche altro tema di questa partita il duello tra amici Balsano e Ragusa rivali per una notte il terzino del Pescara deve tenere a bada l'attaccante del Verona ricordi risate e vacanze insieme tra i due c'è un rapporto fraterno le partite giocate ieri i tristi del Carpi pari tra Cosenza e Benevento Brescia abbatte Lecce ed è secondo il Crotone non sa più vincere dunque Brescia Lecce finita 2 a 1 Crotone Venezia 1 a 1 Carpi Salernitana 3 a 2 e Cosenza Benevento 0 a 0 di Spalla la Serie B del Barone Salernitana in crisi con l'Antuono al Bivio e la riflessione di Daniele Barone l'allenatore si giocherà la panchina contro il Foggia dopo una partenza convincente il turno di riposo e la sosta hanno spento i Granata reduci da 3 sconfitte di fila questo è il punto sulla B ma andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport sul Messaggero Pescara a Verona per il colpo grosso torna la sfida all'Ellas dopo 6 anni il Veneto Pillon contro il mister Pescarese non firmerei per il pari dice il trainer del Delfino Out Melegonice Scognamiglio ancora a Marcod Gessa al Bente Godi servono gli attributi dice il dirigente del Pescara e poi per la palla a nuoto nel taglio basso il Settebello rinvia ancora il successo spettacolare pareggio per 8 a 8 del Pescara con l'acqua chiara troppi errori individuali restiamo sul messaggero andiamo a vedere la Serie C salvare il soldato Piccioni e la nuova mission di mister Maurizzi dopo il rigore malamente calciato dall'attaccante nella trasferta a Pesaro il giocatore non è ancora riuscito a sbloccarsi e il Teramo si sta comunque muovendo sul mercato piace Costantino la piazza abituata ad elementi del calibro di La Padula e Donnarumma non ha più pazienza per quanto riguarda il Teramo sul centro andiamo a vedere la pagina appunto dedicata al Teramo eccola qui diavolo senza vittorie da quasi due mesi Federico il Teramo è in crescita il direttore sportivo dice il rigore è sbagliato Piccioni va elogiato per il coraggio a gennaio nessuna rivoluzione solo qualche innesto i posticipi Ternana Gianermini è finita 3 a 3 Renate Sud Tirol 0 a 1 e adesso andiamo in serie D e partiamo con il girone F il derby al Dei Marsi sul centro Avezzano tutto cuore cade Lavastese zampata di Padovani condanna i Biancorossi e consente ai Marsi Cani di abbandonare il penultimo posto in classifica i due allenatori Giampaolo gara di grande sacrificio ma serve una punta e Montani che dice risultato bugiardo mancato solamente il gol e noi possiamo andare a vedere il servizio prima però andiamo sul messaggero per vedere anche il titolo del messaggero su questa partita Avezzano d'autore con Padovani gol in spaccata del neoacquisto dopo poco dopo la mezz'ora del primo tempo decide il derby contro una sfortunata vastese vittoria che fanno balzare i Marsi Cani in avanti dalla zona di retrocessione ed escono tra gli applausi dei tifosi adesso possiamo vedere il servizio l'Avezzano vince di misura con merito il derby delle deluse con la vastese due squadre rivoluzionate dal mercato e con un obiettivo chiaro la salvezza una prova di carattere per i marsicani che hanno colpito nel primo tempo e legittimato il risultato nella ripresa contro una vastese incapace di reagire come aveva fatto nel turno infrasettimanale nell'Avezzano subito in campo due degli ultimi tre arrivati Ferrante e Manari in panchina Pierantozzi Giampaolo Vara un 4-3 con Crassi in regia Tariuc preferito a Dijan Felice Manari Padovani e Deramo in avanti nella vastese beccato l'ex di turno Sbardella che guida la difesa con Iarocci al suo fianco per il forfè di Del Duca che va in panchina al pari dell'ultimo innesto Cicerello in mediana ritrova il posto Stivaletta davanti Leonetti Sciba e Fiore si gioca di fronte ad una discreta cornice di pubblico la partita però mette in evidenza le difficoltà delle due squadre un filo meglio la vastese che bussa due volte dalla distanza nei primi 4 minuti con Leonetti e soprattutto Palumbo il quale non va lontano dalla porta impacciata la manovra dell'Avezzano che patisce la mancanza di un regista vero si prodiga in avanti Manari molto attivo che va al tiro all'undicesimo la partita non offre granché al venticinquesimo punizione di Capellupo incornata di Stivaletta sopra la traversa ma al trentatresimo con un vero e proprio lampo l'Avezzano passa traversone di Manari la difesa della vastese si addormenta Padovanino e il centroavanti con una zampata piazza la palla alle spalle di Patania la vastese accusa il colpo ma reagisce alla fine del primo tempo punizione di Fiore vola Fanti poi botta di Iarocci deviata in corner da un difensore sul successivo angolo Shiba anticipa Fanti ma non trova la porta sguarnita e così si va all'intervallo nella ripresa la vastese prova a dare seguito a questa spinta e reclama un fallo di mano in area di rigore di Giovanni di Caserta fa giocare Avezzano di rimessa al settimo con la botta di Deramo ma soprattutto a nono quando la squadra di casa sfonda a sinistra cross basso di Di Nicola per Manari che fallisce il tiro da favorevole posizione lo stesso Manari acciaccato lascia il campo a Grazioso e Deramo riportato a sinistra si fa subito pericoloso al ventiduesimo con una giocata delle sue sventata distinto da Patania la vastese spinge senza costrutto e senza creare alcunché ed è l'avezzano a sfiorare ancora il raddoppio al ventisettesimo con il colpo di testa di Tariuk allora Montani spedisce dentro Cicerello e Cone per Fiore Stivaletta e cambia modulo 4-2-4 e al trentatresimo Capellupo Pesca Shiba che conclude Fanti e Miracoloso in due tempi i cambi sembrano dare nuova linfa alla vastese ma l'avezzano si rifa vivo due volte col sinistro di Grazioso prima da piazzato e poi con una conclusione da fuori in entrambi i casi uno spavento per Patania nei minuti finali il forcing della vastese non c'è i marsichani gestiscono bene il vantaggio e portano a casa un successo prezioso il secondo della gestione del nuovo presidente D'Alessandro contro una vastese apparsa involuta nella ripresa altro derby quello del Fadini eccolo qui il Giulianova parte bene ma il San Nicolò Notaresco la ciuffa vantaggio giallorosso con Tozzi Borsoi al primo gol stagionale su azione nella ripresa i rosso-blu prima pareggiano con Moretti e poi sfiorano il colpo questo per quanto riguarda per quanto riguarda il derby andiamo a vedere il derby anche sul messaggero eccolo qui Real Notaresco pari da buoni amici finisce 1-1 la partita segna Tozzi Borsoi per i padroni di casa e poi Moretti riequilibria nella ripresa patron Bartolini elogia la prestazione di Mazzocchetti il nuovo portiere sabato sera si giocherà al Manuzzi di Cesena e possiamo andare a vedere il servizio giusto pareggio al Fadini tra Giulianova e Notaresco al termine di 90 minuti che non hanno deluso le attese della vigilia mettendo in vetrina due formazioni apparse in crescita rispetto alle ultime prove padroni di casa in campo con una formazione tutta nuova dopo la rivoluzione del mercato gli ospiti rispondono con un 11 con poche novità rispetto alla gara persa Cesena si comincia di fronte a 600 spettatori agli ordini del signor Catani di Fermo in curva oeste i tifosi Giuliesi ricordano l'indimenticato Danilo Di Vincenzo scomparso tragicamente nel 96 le due squadre si affrontano entrambe con il modulo 433 al quarto d'ora cross di Delgrosso in area ospite con Torelli prima e Tozzi Borsoi poi che non riescono a trovare la conclusione è però il preludio al vantaggio dei padroni di casa che arriva due minuti dopo grazie a Tozzi Borsoi che di testa su punizione calciata da D'Adamo salta più in alto di tutti mettendo alle spalle di Monti il notaresco accusa il colpo e per qualche minuto non riesce a proporsi in avanti con decisione al 22esimo ci prova Salvatore di testa su angolo di Blando ma la sfera termina sopra la traversa al 24esimo ancora Giulianova in evidenza con Torelli che in area da terra mette la palla al lato l'occasione più clamorosa capita però ai rosso-blu al 26esimo quando c'è il doppio miracoloso salvataggio del portiere Giuliese Mazzocchetti prima su Candellori e poi su Laringe con i piedi la gara è intensa e non regala un attimo di pausa visto che alla mezz'ora è Minella a colpire il palo a due passi dal portiere del Giulianova ancora ospiti insidiosi al 32esimo con Candellori che mira all'incrocio mandando il pallone di un soffio a lato sul finale di tempo poi si rivede il Giulianova ancora con Tozzi Borsoi che su punizione pennellata da Del Grosso trova la splendida risposta del portiere del notaresco Monti che evita il raddoppio della formazione di casa nel secondo tempo al quarto minuto esordio nel notaresco di Colonna arrivato venerdì scorso dalla Recanatese all'undicesimo notaresco pericolosissimo con Minella che in area Giuliese mette fuori di un niente al tredicesimo gridano al gol i tifosi del Giulianova ma su angolo di Del Grosso De Fabritis di testa esalta ancora le qualità del portiere Monti derby ad alta intensità con il notaresco che passa al 4-2-4 che arriva al ventiduesimo così al pareggio con Moretti che dopo il velo di Minella su cross di Liguori a due passi da Mazzocchetti non sbaglia per il gol dell'1-1 per l'esperto attaccante rosso-blu si tratta del terzo sigillo stagionale notaresco che ci crede che al trentacinquesimo è bontà per gli ospiti in rovesciata a trovare la deviazione del difensore Giuliesi Lenart al trentasettesimo bontà crossa questa volta per Minella che di testa chiama alla parata in angolo il portiere Mazzocchetti gli ospiti spingono alla ricerca del sorpasso ma il Giulianova resiste e non corre più rischi e dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale del direttore di gara Fermano per un 1-1 che alla fine accontenta forse tutti adesso andiamo in Romagna sul centro Tomassini manda in orbita il Pineto la punta firma il colpo sul campo della San Mauretio in evidenza il portiere Amaolo partita finita scusate Amadio Amaolo l'allenatore su partita finita 0-2 fra San Maurese e Pineto andiamo a vedere il titolo anche del messaggero Boom Boom Tomassini e il Pineto e Corsaro Amaolo felice la migliore prestazione nel finale Cercelluti sfiora il Tris e allora possiamo andare a vedere anche questo servizio il Pineto trova la partita perfetta e spugna il Macrelli di San Mauro Pascoli battendo per 2-0 la San Maurese e si porta al quarto posto in solitaria uno squalificato per parte Maioli nelle fila dei locali Stefano Amadio invece per il Pineto che sconta la prima delle due giornate combinategli dal giudice sportivo nel 3-5-2 schierato da Mastro Nicola Maggioli prende il posto di Maioli in difesa e il nutrito centrocampo sostiene le due punte Zuppardo e Pieri nel 4-3-3 di Amaolo Esposito prende il posto di Stefano Amadio nel cuore del centrocampo supportato da Marianeschi e Camplone con l'inserimento di massa in avanti con Tomassini e Fratangelo in porta Remo Amadio viene preferito a Fargione mentre parte dalla panchina il neoacquisto Wilson Cruz arrivato in settimana dal Francavilla i biancazzurri approcciano bene la gara dopo soli due minuti Esposito apre per massa ma la conclusione termina alta il risultato si sblocca al quinto quando ancora Esposito tenta l'incursione in area e viene messo giù da Baldassarri in uscita per il direttore di gara Campagni e calcio di rigore dal dischetto Tomassini beffa Baldassarri che intuisce ma non ci arriva partita subito in salita per i locali che accusano il colpo e al diciottesimo rischiano di incassare anche il raddoppio quando Fratangelo dalla sinistra sventola dalla parte opposta per massa che tutto solo forse con un eccesso di altruismo invece di calciare prova a servire Tomassini favorendo il recupero della difesa il Pineto tiene bene il campo e prova a impostare il proprio gioco sfruttando molto la corsia di destra dove massa è spesso lasciato libero di sbagliare al 34esimo bella azione corale che si sviluppa sull'asse Fratangelo Tomassini massa con l'esterno che non trova il bersaglio grosso nel finale di primo tempo si fa vedere la San Maurese sugli sviluppi del corner battuto da Enrico prima Pieri tenta la conclusione respinta da Amadio poi prova Maggioli ma la difesa riesce a sbrogliare nella ripresa le due squadre ripartono subito forte botta e risposta al settimo Marini conclude dalla distanza Baldassarri non blocca in agguato c'è Tomassini ma l'estremo romagnolo si salva in due tempi sul contropiede Sumain serve Scarponi la scodellata in area del capitano e l'anticipo in uscita di Amadio Suppieri al diciottesimo Tegola per il Pineto Pepe commette fallo su Diop viene ammonito era diffidato e salterà il derby di domenica prossima contro l'Avezzano la San Maurese prova a recuperare le sorti del match al diciannovesimo Scarponi pennella la punizione per la testa di Rosini che da due passi costringe al miracolo Amadio al ventitreesimo reclamano per un calcio di rigore i romagnoli Zuppardo mette in mezzo il traversone Orlando spazza tra le proteste dei locali che vorrebbero il fallo di mano del difensore pinetese nel tentativo di recuperare inevitabilmente la San Maurese si espone alle ripartenze del Pineto al venticinquesimo Fratangelo riceve palla al limite la conclusione e la deviazione in corner al ventiseiesimo i biancazzurri mettono in ghiaccio la gara massa dalla destra serve Tomassini nell'area piccola la girata sottomisura del centravanti vale il 2-0 e la doppietta personale passerella e applausi meritati per lui al minuto 36 quando lascia il posto al neo-arrivato Wilson Cruz all'esordio con la maglia del Pineto nei minuti finali da annotare una conclusione dal limite alta di Pieri e la traversa di Ciarcelluti che di fatto chiude la gara si interrompe così la striscia di 5 risultati utili della San Maurese mentre il Pineto riscatta con una grande prova di forza il passo falso di mercoledì contro l'Agnonese e riprende la sua corsa in attesa del derby contro l'Avezzano che i Biancazzurri dovranno disputare senza Stefano Amadio e Capitan Pepe andiamo avanti ancora sele di Girone F il Francavilla spezza la serie di pareggi e si rilancia con i gol di Dos Santos l'attaccante sigla la doppietta che vale il ritorno alla vittoria contro Lisernia il DS D'Ercole siamo convinti di poter centrare i playoff Palumbo infortunato il titolo del messaggero sulla partita del Francavilla Dos Santos si presenta subito doppietta e il Francavilla vola dopo sei pareggi consecutivi i giallorossi battono Lisernia in un match senza storia vediamolo Francavilla torna alla vittoria dopo otto gare e batte 2-0 Lisernia con i primi gol in maglia giallorossa di Dos Santos Rachini lancia subito titolare l'ultimo arrivato Mancini ex Teramo e Pineto al posto di un Banegas ancora non al meglio della condizione per il resto 4-2-3-1 confermato dopo le dieci partenze di tre arrivi della finestra di mercato invernale con Sanchez vicino anche egli all'addio Lisernia di Massimo Silva risponde con il consueto 3-5-2 con Romano e Petitti in avanti e l'ex San Nicolò Iaboni in panchina la gara si apre con un episodio da Moviola al sesto contatto in area tra Montagnoli e Frabotta il direttore di gara ammonisce per simulazione l'attaccante giallorosso tra le proteste vehementi dei compagni di squadra e dei presenti al Valle Anzucca il Francavilla non si demoralizza per l'episodio e tiene il possesso palla lasciando alla formazione di Silva solo sterili ripartenze al 17esimo Palumbo fa partire Dos Santos sulla linea del fuorigioco l'attaccante col mancino piazza le spalle di Tano il primo gol in maglia giallorossa Lisernia prova ad alzare il baricentro con i padroni di casa che rischiano al 23esimo e sbrogliano in qualche modo una situazione complicata alla mezz'ora però il Francavilla passa ancora Samuel Di Renzo serve col contagiri Montagnoli che entra in area e serve un assist a Dos Santos che deve solo spingere il pallone oltre la linea di porta per il raddoppio della formazione di casa e la sua prima doppietta in maglia a Francavilla i molisani accusano il colpo e per il resto della prima frazione la squadra di Rachini si limita a controllare ad inizio ripresa Palumbo rimane a terra dopo un contrasto di gioco entra in campo anche la barella ma il giocatore giallorosso riesce a rialzarsi e a lasciare il campo sulle proprie gambe per far spazio a dipinto Lisernia prova a tenere maggiormente il possesso per riaprire la gara ma lascia spazi al Francavilla al corto d'Ospataro vede la ripartenza di Dos Santos che arriva in area ma la sua conclusione è calibrata male e finisce sul fondo la ripresa è tendenzialmente soporifera con i molisani che ci provano al 24esimo competitti con tiro però alto sulla traversa il Francavilla risponde dopo la mezz'ora quando Caffiero calibra verso Bosco il cui impatto di testa è troppo centrale finisce senza altre emozioni una gara che il Francavilla avrebbe dovuto vincere come ha fatto anche senza stare troppo guardare alla prestazione per gli serni invece è sempre più basso classifica rapidamente completiamo la lettura delle pagine di sport del messaggero in eccellenza vittoria del Chieti 2-1 a lungo in classifica i neroverdi con i gol di Di Lallo e Miciche spugnano il campo del Martinsicuro che resta ultimo in classifica tra le altre partite Sambuceto brutto KO 3-0 raggiunto dal Capistrello in promozione il Lanciano vince 3-0 il match clou e torna in solitario battuto nettamente il Bagicalupo Vasto ma non è stato facile anche se il risultato direbbe il contrario andiamo al basket Sharks KO Treviso spietato Roseto sempre sconfitta in casa dai Veneti non riesce ad invertire la rotta ma esce tra gli applausi dei tifosi migliore è stato Parson che ha chiuso con 21 punti in doppia cifra anche Achele e Sherrod ancora basket la Serie B Amatori Pescara 7 bellezze cade anche il Senigallia consolidato il secondo posto Chieti batte Giulianova nel derby Teramo e Campli sconfitte per la A2 la Seco continua la marcia abbattuto anche il Castellano successo 3-1 per gli Ortonesi andiamo sul centro e completiamo anche la lettura del quotidiano d'Abruzzo dodicesima giornata nella Serie A2 Est Roseto ci prova ma l'impresa non riesce al Palamaggetti passa la vicecapolista Treviso partita finita 58-67 nella pagina successiva agli abruzzesi DB Chieti passeggia al Palatricalle su un Giulianova pieno di under partita finita 75-50 Globo Campli travolto in casa dal Nardò tra i Farnesi si salva solo Milosevic partita finita 71-101 per Nardò l'Amatori cala il settebello e il Senigallia va KO vittoria per 82-67 l'Adriatica Press con il mal di trasferta anche a Civitanova sconfitta 79-68 per il Teramo e poi Serie C Gold la Magic sbanca Pesaro e l'Ancianova in Umbria a difendere il primato Pesaro Magic Chieti finita 79-92 in Serie D ottavo sigillo anche per il 2K5 l'Aquila in promozione secondo successo stagionale per il Roseto e Val Vibrata per la B femminile l'Antoniana torna la vittoria nel derby contro le Teatine il volley di A2 girone blu sieco supera la più bella gara dell'anno Castellana Grotte senza scampo ad Ortona schiacciatori determinanti in uno degli incontri chiave della stagione vittoria netta 3-1 per Ortona in B2 Pineto e Altino brillano la Virtus Orsonia vince il derby con la Coged e sale al primo posto in classifica le altre notizie URL Aquila stop per neve Paganica a meno 4 dalla vetta in serie A i nero verdi del rugby torneranno in campo sabato al fattore con i Medicei in serie B i rossoneri di Rotellini superano Catania secondo capo di fila per l'Avezzano per l'atletica reggera Pucca e Montanaro convocati a raduno della nazionale Under 20 le altre notizie il calcio a 5 donne città di Montesilvano espugna il campo della Florenzia Casalbordino oltre 150 polisti hanno dato vita all'ottavo mandamento tour per il volley maschile regional day oggi a Montorio con il tecnico federale Fanizza i nati nel 2003 e così ci fermiamo per questo appuntamento di mattino 6 che tornerà domani alle ore 8 la nostra informazione invece con il TG6 alle 14 alle 19 e alle 23 vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera con Diretta Stadio per seguire il posticipo di serie B fra Ellas Verona e Pescara grazie è davvero tutto vi auguro una buona giornata grazie a tutti